Complimenti a Zai, ho fatto i complimenti a Totti, devo dire che sono entrambi due risultati eccellenti. È chiaro che l'autonomia è uno dei discorsi che andrà necessariamente ripreso. Zai ha vinto con la lista civica? Zai ha vinto, è la cosa più importante, che abbia vinto Zai, abbia vinto il centrodestra, abbia vinto un'ennesima dimostrazione di buon governo. I comuni di Lombardia non ci sono ancora... Non lo so, stiamo a vedere, anzi aspetto con interesse di vedere i risultati. Fin da adesso auguro buon lavoro a tutti i comuni, che siano di centrodestra o di centrosinistra e faccio presente che come sempre la Lombardia sarà presente per ogni necessità di tutti i comuni.